buongiorno eccoci di nuovo con non ancora tanta tanta energia ma speriamo che arrivi come prima cosa volevo ringraziare per tutti i messaggi che mi avete mandato tutti i consigli non sono riuscita a rispondere a tutti ma violetti tutti quindi grazie 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 vi ho sentiti molto vicino in un momento un po particolare che comunque mi è servito per per ragionare per pensare per fare un bilancio delle delle situazioni quindi non tutto viene per caso insomma allora oggi non abbiamo delle grosse novità e vi vogliamo solo fare un po di compagnia fare due chiacchiere con voi si sentono dei rumori sta arrivando qualcuno vabbè vado avanti come prima cosa volevo farvi notare questa frase che secondo me ci riguarda un po tutte quante noi creative e la leggi Heidi? leggi la data? non la vedo da qua è bello inquadrata perfetto questo è il regalo di Heidi perché sapeva che mi piaceva quindi me lo ha regalato e oggi ve l'ho voluto far vedere appunto perché questa frase ci rispecchia molto li spostiamo perché abbiamo un tavolino molto piccolo quindi un altro regalo di Heidi e insieme in collaborazione con mio marito perché questo era un po più costoso e Heidi mi ha regalato questo set di ferri della ciao che ci sono i ferretti quelli proprio mignon come lunghezza guarda e la serie leggermente un po più lunga per questo quello corto per calzini dopo vi faccio vedere che cosa ho iniziato vabbè comunque questo qui era un mio desiderio e me l'hanno me l'hanno regalato poi un'altra cosa che visto che parliamo di regali volevo far vedere questo quaderno libro io in passato ho fatto tante marmellate e questo è un quaderno delle marmellate è favoloso te lo consiglio Simona del canale pensieri pasticci eh seguitela perché fa delle cose meravigliose ciao Simona quindi oggi facciamo due chiacchiere e vi siamo rimaste un pochino indietro nel senso che allo Scozia si è aggiunto un nuovo arrivo questo blu non è mai stato in catalogo la ditta lo ha prodotto negli ultimi tempi peccato che siamo all'interno perché è un blu meraviglioso guardate che non è un blu pari e comunque leggermente non si può neanche chiamare melangiato però se lo guardi fa fa un pochino cambia un pochino colore comunque appena possiamo andare all'esterno qua c'è freddo c'era umido stamattina niente sole quindi abbiamo preferito farlo all'interno anche perché così io rimango un po' più protetta questo è quindi è nuovo Scozia e c'è sia lo Scozia ha un filo che lo Scozia ha due fili leggermente ritorto e sono ritornate queste due colorazioni che era un po' che non c'erano l'avio e il pesca quindi questi li conoscete non è quindi queste sono le tre colorazioni che si sono aggiunte nella nella famiglia dello Scozia qua vedete il il mio Artus non ho finito niente non ho finito niente tutti i buoni propositi anche qua visto che ti sei alzato in piedi vi avevo detto che il primo dell'anno avrei finito Tolosa ma ho fatto due giri e poi dopo non non riesco a concentrarmi ancora bene quindi è qui a questo punto se riesci ad andare vicino e fare una inquadratura sul collo che è venuto benissimo il collo secondo me vero Vicky guarda lo controllano che secondo me è a posto qui si arriccia un po' ma mi hanno spiegato che quando farò il bloccaggio dopo non si muove più quindi il Tolosa è lì questo è l'Artus ed è in lavorazione lo stiamo facendo con le tester ancora quindi siamo guidate da Nadia e da Vicky che li saluto caramente le ringrazio e vi farò un altro video perché devo spiegarvi che c'è un altro c'è un altro corso della Vicky quindi ne parleremo nel prossimo video e non sono attrezzata per il corso comunque andate a vedere nel suo nel suo canale che su Instagram che l'ha già pubblicizzato visto che non riuscivo a concludere niente di quello che avevo avviato ho dovuto provare i ferretti quelli nuovi lì della Ciao Gu e ho iniziato uno scaldamuscolo per Heidi che va in palestra e si vuole proteggere un po' le gambe poi sono anche di moda Heidi quindi questo è lo scaldamuscolo e poi avevo voglia di un guantino senza dita quindi sono in lavorazione e qua mi sono cimentata col gioco di ferri perché voglio voglio comunque diventare un po' più veloce diciamo perché sono molto lenta col gioco di ferri quindi questo l'ho lavorato con i ferretti della Ciao Gu che lavorano molto bene mi piacciono quindi se può essere una recensione se siete in dubbio per comprarli prendeteveli e questa è la roba che ho iniziato e non finito poi ho ancora il maglione di Heidi che qualcosa è proseguito anche qua ma non so se vi ricordate che aveva scelto un maglione questo qui e sono andata avanti davanti che lo so aspetta un attimo che devo trovare quindi sono già al bordo ho fatto un bel collo diciamo un lupetto lo chiamiamo così perché non ha voluto il collo alto da risvoltare quindi ho fatto l'alzata dietro e è carino se l'hai già provato e hai avanti ti piace non l'avevi visto ancora eh con i disegnini eh doveva essere questo il suo maglione di Natale ma purtroppo è ancora così comunque un po' alla volta vedrete che finisco tutto io non ho mai avuto tanti lavori avviati come in questo momento bene ho finito però avevo finito prima di Natale lo scialle giallo e viola di Irene Lecchi è finito è bloccato ma non posso farvelo vedere finché non non presentano il video le teste quindi io direi di aver esaurito tutto quello che è Heidi sono riprese le spedizioni perché Heidi ha spedito tutto quanto tutto quello che era arrivato nel è stata bravissima io l'ho aiutata poco e però mi perdona va bene dai allora vi ringrazio ancora tantissimo e mi sto riprendendo quindi un po un po alla volta mi sto riprendendo grazie anche a tutto il vostro affetto che vi ho sentite molto vicino ciao